Il 25 ottobre 2023, presso lo stadio del Gallo di Pretriano, avrà luogo la ventinesima edizione dell'amministrazione Oltre le Barriere, organizzata da SEC, Società di Educazione Cinofila, che all'interno ha un campionato di addestramento per cani nati e allevati in Italia, quindi un campionato di addestramento SAS. Lo scopo dell'amministrazione Oltre le Barriere, a cui parteciperanno tutte le autorità, diciamo, del pesaresi, il prefetto, questore, a cui faranno parte anche di un comitato d'onore che assegnarà dei premi speciali, che sono in durazioni in beneficenza per i ragazzi dell'Aias, quindi l'Aias di Pesaro, e la terapia intensiva neonatale del Salesi di Ancona. All'interno della manifestazione, quindi della Kermess Cinoagonistica, vedrete delle esibizioni, quindi delle esibizioni da parte dei carabinieri cinofili di Firenze, della guardia di finanza di Pesaro e di Ancona, quindi con i loro cani, poi vedrete anche i vigili del fuoco e poi vedrete anche i nostri cani e forse verrà a trovarci il campione del mondo in carica dell'addestramento per farci un piccolo cameo col suo cane. Aias è un'associazione a carattere nazionale per la tutela e l'assistenza di persone con portatrici di handicap, noi in particolare a Pesaro abbiamo due centri, uno diurno e uno residenziale, seguiamo circa 30 utenti con disabilità grave e gravissima, siamo un'associazione che cerca di dare un sorriso a questi ragazzi che purtroppo per la loro situazione fisica o anche mentale hanno una situazione di vita molto molto difficile. Siamo contenti di poter vivere queste esperienze con loro perché avere la vicinanza anche degli animali per loro è sempre molto positivo perché gli animali danno sempre un qualcosa di in più anche rispetto alle persone. E quindi vi volevo invitare alla nostra manifestazione che inizierà il 25 di ottobre alle ore 15, l'inaugurazione, ricordo a tutti che l'ingresso è libero quindi vi aspettiamo numerosi.